ciao amiche tu non mi conosci io ho letto un botto di roba tua poi vabbò non so uno di quelli che scrive sui social i pensieri ad alta voce ma stavolta ti volo di bravo ho visto la serie su netflix cioè ho letto pure i titoli di coda e in culo non l'hai fatta manco animai coreani come adrian la serie evento cioè hai fatto una roba di animazione fregna ma made in italy fatta da ragazzi italiani doppiata in romano è addirittura credibile cioè adrian non si supera ma comunque la tua serie è credibile bravo bravo ah se ti serve una controfigura per le animazioni pericolose conta su di me oppure se c'hai da fa posso farti che ne so tipo le animazioni per propaganda live chiaramente pagato che muo i soldi te li sei fatti quindi puoi pagà comunque bella calca hai fatto una roba fregnissima continua a strappare lungo i bordi e ti faccio pure pubblicità gratis